Oggi è un giorno di dolore, di estremo dolore, perché stiamo denunciando questo caso, ma è l'ennesimo caso. Ogni giorno io ricevo telefonate di persone che mi dicono che sono state costrette a liste d'attesa infernalmente lunghe, anche 24 ore d'attesa in pronto soccorso, voi immaginate. 24 ore d'attesa è veramente vergognoso. E poi c'è chi muore, come quel signore che l'altra notte abbiamo sentito la testimonianza dopo che aveva aspettato 7 ore, l'ultima telefonata, stava alzando, magari prendendo il telefono per chiamare i parenti per l'ultima telefonata, è deceduto. Ecco, così non si può morire, è così. Allora, qual è il problema? Mancano i medici in pronto soccorso. Questo è il vero problema. Come si risolve questo problema? Perché i medici non vogliono andare in pronto soccorso? Perché il pronto soccorso si rischia e quindi cosa chiedono? Una cosa giusta, di essere pagati di più un incentivo economico. Basterebbe trovare 500 euro in più da mettere sulla busta paga dei medici di emergenza urgenza che vanno in pronto soccorso e vedrete quanti accetteranno gli avvisi, i bandi e andranno a lavorare in pronto soccorso. Allora la domanda che mi pongo io, com'è possibile che si trovano 10 milioni di euro per il ritiro di una squadra di calcio, la regione Abruzzo, perché la regione governa la sanità, e non si trovano 500 euro in più da mettere sulla busta paga di quei pochi medici che servirebbero in pronto soccorso per erogare le cure. Allora non c'è giustificazione. Questa è una denuncia forte, sono costretto a gesti eclatanti e sono sicuro che se tutti facessero questi gesti eclatanti si potrebbe trovare in 48 ore questi 500 euro in più.